Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Semi-Indie, di cui si sta parlando anche fin troppo, quindi non ho intenzione di seguire l'onda attuale, ma vi voglio parlare di quello che io ho scoperto su Palward dopo circa una ventina di ore. Ho un server su Nitrado, dove sto giocando con Ibu, e lo stiamo un pochino esplorando. Abbiamo già sbloccato le cavalcature, il volo, insomma, e che cos'è Palward? Vi voglio spiegare in breve che cosa dovete fare, che cosa si fa in questo gioco, quali sono le attività, qual è il crafting, e come funziona la gestione della base. In sintesi, al momento, il gioco è basato su queste scoperte qui. Potete magari mandarle avanti lentamente, però, insomma, qui si va fino a livello 50, ci sono tante cose. Io sono a livello 18, pian piano si scoprono sempre più cose, fino ad arrivare in fondo, dove ci sono le armi, quelle un pochino più di massa, insomma. E livellando, appunto, potete guadagnare dei punti di tecnologia che poi spendete per, appunto, volessi prendere la troccia fissa, due punti. Li spendo e la prendo. Arrivando a livello 19 sbloccherò queste cose, il wrench, il cemento, le varie cose, e la base diventerà sempre più complessa. E man mano che costruirete quello che il gioco vi chiede, la base potrà essere espansa a livello di, appunto, di progressione. Cioè, praticamente, io premendo V, vedete che io, se costruissi due letti morbidi, posso passare a livello 13, quindi avrei un pal in più nella base. E dopo un po' potrei fare la terza base, al momento ne abbiamo due. All'interno abbiamo i pal che lavorano e ogni pal, come vedete sulla destra, ha, qua, ha delle abilità che vanno dalla raccolta, possibilità di annaffiare, possibilità di scavare, insomma, cose varie. E questo è quello che fate. Cioè, nella base loro vanno, quelli adibiti anche a bagnare i campi, bagnano i campi, quelli adibiti alla coltivazione che sono in grado di farlo, coltivano, e quelli che sono adibiti alla raccolta, raccolgono e portano nelle casse. Al momento, almeno livello, dopo 20 ore, insomma, livello 20 circa, non c'è modo di assegnare dei ruoli. Possiamo solo da quel pulpito là in alto dare il ritmo di lavoro normale, quello un pochino più duro, e quello invece estenuante. Loro si infortunano mentre voi non siete in base. Il server è sempre attivo, quindi la base è sempre attiva, non è come la partita in single player, che quando chiudete la partita non è più attivo nulla. Quindi qui bisogna fare attenzione che magari se rientrate dopo diversi giorni, i palli magari sono affamati. Non dovrebbe succedere, ma magari sono fatturati e cose varie. E quindi dovete curarli producendo medicine. Perché loro adesso, al momento, si stanno producendo delle bacche, e le bacche c'è poi chi le trasporta alla mangiatoia. E la mangiatoia è bella, ricca di roba da mangiare. Quindi qui ci sono le terme dove vanno a rilassarsi quando sono stanchi. Quindi c'è già un microsostentamento automatico della base. Abbiamo costruito qui la possibilità di mettere in incubatrice delle uova. E quindi qui ci vorranno 8 ore di tempo reale. Qua vedete che possiamo andare ad aprirlo. Non lo apro per correttezza nei confronti di Gibu che la sta gestendo lui. Però lì nascerà un pall che diventerà nostro. Di conseguenza il gioco aggiungerà sempre più meccaniche andando avanti. Come ad esempio quella. Possiamo mettere un maschio e una femmina di due pall anche diversi. Mettendogli una torta produrranno un uovo. Un uovo che poi darà delle specifiche creature generate a caso ma anche generate in base alle forze dei due pall. I pall ovviamente, questo è un discorso che non toccherò nello specifico, però si parla di plagio, di copia, ispirazione da un'altra, un brand. E sì, assolutamente, innegabile. Anzi, quando in uno scontro contro un boss della storia principale ho trovato uno pseudo Team Rocket con il suo gatto, ho detto ok, qui non ci sono dubbi. Si poteva evitare una copia così uno a uno. Però vabbè, questo può aiutare in due sensi. Chi vorrebbe sempre giocare a quel brand lì, orientale, con le creature, ma ha solo il PC e non ha console su cui poterlo giocare. Seconda, può aiutare chi già conosce quel brand e vuole capire che cosa fanno le varie creature. Perché bene o male, chi è d'acqua, di terra, di fuoco, insomma, si capisce. Non andiamo oltre su questo discorso. Prendiamo il gioco per quello che è. Il gioco è stato sviluppato dagli stessi sviluppatori di Craftopia, che secondo me è stato un gioco rivoluzionario passato abbastanza in sordina, dove lì si parlava di Zelda come ispirazione, in effetti lo era, mixato a un Satisfactory, a un Factorio, perché potevamo far produrre energia alle nostre creature, potevamo creare le nostre catene di produzione, ed era piuttosto innovativo. E questo gioco promette di fare lo stesso. è in Early Access, però ha già più di 100 caricature, più di tot centinaia di oggetti craftabili, quindi anche solo guardate l'equipaggiamento che ho e che sto continuando ad aggiornare. Le caricature, che voi potete averne 5 in squadra, e ogni caricatura ha delle mosse, delle abilità passive uniche, quindi ne trovate uno, siete fortunati, ne trovate uno con un malus, lo scartate e ne prendete un altro, quindi c'è anche la caccia alla caricatura ideale. E fanno i loro attacchi, in questo caso fa danno non elementale, poi potete trovare quelli che fanno danno da fuoco, da terra, insomma vari tipi di danno. In questo caso, vedete, questo fa danno drago, danno ghiaccio, ma al tempo stesso la sua natura di ghiaccio gli consente di refrigerare, quindi se dovessimo fare un frigorifero in base, lui, se messo a lavorare nella base, si metterà a fare quel mestiere lì. Altre cose, potete sbloccare oggetti che vi consentono di... Vedete, io adesso prendo l'aliante e vado, ma al tempo stesso se io vado nei miei PAL e ne tolgo uno, tolgo questo e metto il PAL che... Aspettate che devo trovare dove l'ho messo... Un PAL apposta, che è questo. Io ho craftato qui negli oggetti importanti, vedete che qua c'è l'immagine del PAL, questo importante oggetto, quindi se io facessi così, vedete che lui diventa una sorta di aliante, ma che scende molto meno velocemente. Al tempo stesso io ho un collare, un collare che mi consente di tenere sempre un PAL, nello specifico questo, sempre visibile vicino a me. Adesso non si vede probabilmente perché sono in base, ma in sintesi il floppy, floppy si chiama? Floppy sì. Io ho questo oggetto che mi consente di averlo sempre visibile, perché voi ne potete evocare uno alla volta e tenendolo vicino, adesso non me lo fa vedere, però adesso se lo evoco e poi lo tolgo, dovrebbe, ecco, vedete che rimane, e raccoglie gli oggetti che trova a terra e me li consegna, che è molto utile. Infatti io se adesso vado a evocarne un altro, lui rimane. Ed sono abilità tutte dovute a queste produzioni qui. Lui ha la sella, quindi io tenendo premuto F posso cavalcare il lupo e usarlo. E il lupo ha le sue mosse, il getto di melma e così via, e se vado ad esaminarlo vedete che ha queste. Ma all'interno del mondo potete trovare delle abilità che potete inculcare ai vostri PAL, quindi creandovi il PAL preferito. Non è finita qui perché, vabbè, insomma, adesso vi faccio vedere un'altra cosa abbastanza esaltante. Io tiro dentro questo, prendo questo e vedete che tenendo premuto F ho costruito la sella, posso volare. Ovviamente è sempre legato alla stamina. La stamina quando cala del tutto lui scende. Non vi uccide perché scende pian piano e vi riporta a terra. Ecco, l'ho fatto per farvi vedere anche la possibilità di volare. Ci sono poi, vabbè, carriature diverse che vi consentono di muovervi più o meno velocemente. Queste statue qui, che trovate anche per il mondo, l'abbiamo carriata anche qui, vi consente di, con queste fluidi PAL, no, non fluidi PAL, scusate, con questi, no, le ho depositate queste qui, le anime, ce ne sono di vario tipo, vi consentono di potenziare i PAL, quindi quelli che avete equipaggiato potete andare a spendere dei punti, vedete qua io ne ho già spesi qualcuno, potenziarli in punti vita massimi, attacchi, difesa e velocità dell'attività. Vedete che poi ce ne sono diverse di anime in base al livello del PAL. non so dirvi se dal livello loro, cioè più salgono più ne chiedono, o il livello proprio il PAL più forte di endgame, quello non so dirvelo. Però qua vedete anche tutte le sue abilità. E potete anche potenziare voi stessi, in sintesi, recuperando delle statuette verdi in giro per il mondo, potete andare a livellare la vostra capacità di cattura. Perché? Perché non ve l'ho ancora parlato, ma in sintesi potete andare a, ferendo e portando la vita al minimo di un PAL, lo potete catturare. Io quello là in alto non credo di averlo, tra l'altro, il Dinosaur non ce l'ho. Io posso andare, vedete, premendo il tasto, ok, Q, vedo che ho l'1% di catturarlo, quindi in questo caso io posso andare a sparargli. Ovviamente se evoco un altro PAL, uno dei miei mi dà una mano a combattere usando le sue abilità, ma c'è il rischio di ucciderlo. E quindi tante volte dovete magari andare a rimetterlo nella sfera PAL nel momento in cui state per sferare il colpo decisivo. In questo caso vedete che lancio la sfera, ho il 25% di possibilità di prenderlo, intanto mi ha fatto male, intanto la percentuale sale, forse ce la faccio. In questo caso ce l'ho fatta, ma non ho spazio, credo, nel mio inventario, perché ho tutti i PAL pieni, quindi andrà in quella console che avevamo visto là prima. Altra cosa, io ho costruito una cintura per poter impugnare questo dodo, vedete, io lo evoco, e premendo il tasto F, lui diventerà una cosa molto trash, che comunque verrà sostituita in endgame dalle armi, però in pratica io posso andare con lui a sparare, vedete, quel palla lì, non voglio chiamarlo come non devo, è chiaramente ispirato a qualcosa, lo si capisce anche, magari non proprio a quello, però sì, e soprattutto dalla coda. Comunque, vedete che io l'ho equipaggiato così, e dal di dietro lui lancerà questa. per un tot di tempo, un tot di colpi, poi ci sarà il cooldown, che dovremo attendere, per poterlo impiegare di nuovo, vedete, io adesso lo uso di nuovo, sparo di nuovo, dopo un po', lui smette, e non posso più usarlo per un tot di tempo, quindi lui tornerà a combattere, normalmente, il tocco tocco, lo rimetto dentro qua. Allora, il tocco tocco, vado a vedere le sue specifiche, lui è in grado di fare il cannone d'aria autodistruzione, e in base è abbastanza inutile, perché ha solo la raccolta di livello 1, e mangia discretamente. Adesso, ho fretta, voglio andare in base, quindi evoco lui, premo F, tengo premuto F, torno in base abbastanza lentamente, perché questa creatura è abbastanza grossa e vola lenta, dopodiché torno giù, lo rimetto all'interno, e andiamo a vedere che cosa ho appena, appena raccolto. Qua. Io ho preso questo, e vedete che lui ha capacità 2 di taglio legna, e capacità 2 di semina, mi pare, mangia parecchio però, quindi lui mangiava parecchio. Impulso draconico, schianto botanico, falce d'aria, ma ha un pozzo senza fondo, appunto perché mangia tanto. Potrebbe essere una peculiarità di questo tipo di pal, o potrebbe essere un malus suo, quindi magari potrei prenderne un altro, e tenermi il migliore, e l'altro venderlo, ci sono dei mercanti nel mondo. Per la generazione delle risorse, ci sono dei campi che costruite, e sono delle risorse illimitate, e sono praticamente là. Lì si raccoglie legno, bisogna avere uno con un'abilità faleniameria, e uno con un'abilità minatore, e andranno qua e scaveranno all'infinito, fino ai diecimila oggetti. Al tempo stesso, questa mucca qui, e il gatto, se costruite un allevamento, anche una gallina, se costruite questo allevamento, loro vagano, pascolano, e producono. Il gatto scava dal terreno, e trova soldi. Lei produce latte, e la gallina produce le uova. Infatti vedete che qui c'è da raccogliere, un bel po' di roba, latte, ho preso anche degli organi per l'iniezione, che serve per la produzione di tutto quello, che ha a che fare con il fuoco. E in questo caso, vedete che ho farmato in automatico, passandoci sopra. Livellate per ogni crafting che fate, per ogni pal che uccidete, per ogni pal che catturate, ma soprattutto, la domanda che mi sono fatto anch'io, è come livello? Perché i livelli sono abbastanza estenuanti? Per farlo dovete vagare per la mappa, che è enorme, trovando vari punti di teleport, andando avanti, spostandovi, diventa sempre più difficile, e sulla mappa trovate o i dungeon, dove entrate e trovate degli oggetti, e fate livelli, c'è il boss finale, oppure, qua dove vedete questa V, sono punti in cui c'è un'immagine, con un pal. Voi dovete andare, lo potete catturare, o lo potete semplicemente affrontare, è uguale. Se lo andate ad affrontare, prendete dei punti, tanti punti esperienza, dopodiché, il boss si rigenera, dopo un'ora. Quindi, vi potete fare il vostro tour, come fosse quasi un MMO, il tour del vostro boss, per andare a farmare, nuovamente esperienza. Questo può essere frustrante, sul lungo periodo, ma, e lo è, ma, calcolando, che l'esplorazione, comunque, ce n'è tanta da fare, ma soprattutto, arrivate a dei punti, in cui magari, sopravvivete, per fortuna, per un po' di culo, magari, tornate indietro, avete fatto esperienza, avete fatto un livello, provate da un'altra parte, stessamente, fate livelli, e, dopodiché, vi producete, vi ricercate, producete, delle armi nuove, delle armature nuove, e quei punti, in cui, erate riusciti a malapena, lo fate tranquillamente, quindi, a quel punto, vi spostate, ulteriormente, in là, e quindi, questa è un po' la meccanica base, perché poi, le meccaniche di gioco, cambiano notevolmente, io spero, ci sia una gestione più, microscopica della base, in modo da poter assegnare, perché al momento, voi potete prendere un pal, lo prendete in braccio, così, e lo potete buttare a un tavolo, e lui farà quello, se c'è roba da fare, come priorità, ed è una cosa abbastanza scomoda, secondo me, comunque, gioco buono, non è perfetto, ci sono tantissimi, l'avete visto prima, con la mucca lì, che glitchava, bug ce ne sono, è godibile, diciamo che, a parte il server, che è crashato un paio di volte, ma non c'entra il gioco, credo, e il gioco è godibile, ampiamente godibile, se morite, lasciate tutto sul terreno, quindi non avete più niente, nessun equipaggiamento, nessuno di questi, e i palli lasciate sul posto, quindi, è abbastanza punitiva come cosa, ma ci sta, almeno non si fa, tanto, gli stupidi in giro, altra cosa da dire, se non l'ultima, non costruite fuori, dal contorno della base, che non è, tra l'altro, enorme, e parte da dove piazzate il box, questo qui, per pall, perché, là in fondo, abbiamo costruito, un cancello, e una enorme casa, il doppio di questa, e nella notte, forse grande come quella, forse, e nella notte è scomparsa, quindi, abbiamo perso tutte le risorse, che avevamo messo all'interno, quindi, costruite solo all'interno, al momento abbiamo due basi, una nella zona iniziale, che è qui, ed è molto più scomoda di questa, perché, comunque, ha delle rocce vicino, non piazzatela lontano dalle rocce, perché i pall si compenetrano, e rischiano di ferirsi, e se un pall muore, non muore, in realtà, arriva a punti vita zero, viene, diventa rosso, e quindi dovete metterlo, all'interno della vostra pall box, questa, e metterli lì, ed uscirà un timer, con cui si curerà, io ne avevo messo via uno, che era questo, che era se era fatto male, e li mettete qua dentro, e si riprendono, basta, tenete conto, che queste sono 16 pall box, sono personali, quindi, con i vostri amici, non li condividete, dovete, per condividerli, dovete buttarle all'interno della base, e lui dalla base, li prende, li mette via, ovviamente, dovete essere all'interno, della stessa gilda, questi, con il simbolino, del cattivo, insomma, sono, i boss, che ho catturato, e sono, molto utili, perché guardate, che abilità, annaffiare livello 2, raccogliere livello 2, minare livello 2, refrigerante livello 2, e trasporto livello 2, quindi, è molto alto, ma mangia, come un disperato, ed è, molto carino da vedere, come, come corso, perché, lo metto a posto di questo, guardate che, qua sto mettendo tutto, abbastanza in ordine, con i pal che ho, nel box 10, quelli che uso solitamente, e adesso lo evoco, e guardate quanto, quanto è carino, e era un boss, che io ho, scusate, non volevo, vai, questo qui, guardate quanto è carino, irrigazione in corso, e si mette a fare, questo lavoro, io spero, di avervi fatto vedere, comunque, una presentazione, di quello che è, Palward, se avete, ha venduto milioni di copie, quindi credo, non ce ne sia bisogno, ma volevo darvi anche, il mio parere, sarà da tenere d'occhio, perché, può andare, in mille modi diversi, nel senso che, secondo me, nei miei timori, c'è anche il fatto, che mollino tutto, e non venga più aggiornato, o che facciano il compitino, e il gioco resti quello che è, così come che cresca, e che diventi un giocone, ma, il problema è che un giocone lo è già, nel senso che contenuti ce ne sono, poi può piacere, può venire a noia, prima, o dopo, dipende, è un gusti personale, ma di contenuti ce ne sono già, parecchi, quindi, sarà da vedere, come crescerà il gioco, ovviamente, nelle, eh, prospettive più, oscure, c'è anche la possibilità, che venga sospeso, per, cause legali, ovviamente, sarà da vedere, come andare avanti, non ne parlerò, più, nel senso che, è una presentazione, che è doverosa, che dovevo fare, su questo titolo, eh, ma, ora andiamo avanti, e cerchiamo di scoprirne nuovi, perché, questo purtroppo, poi è uscito insieme, a The Shrouded, che vi avevo già portato, che ho, eh, vi avevo portato la demo, e In Shrouded, è, un altro titolone, che però, purtroppo, verrà offuscato, dall'uscita di questo titolo, poi, vedremo se, approfondire anche quello, io vi saluto, vi ringrazio, vi rimando al prossimo gameplay, lasciatemi ovviamente i commenti, qua sotto, di quello che ne pensate, ciao ciao!